Benvenuti! Ispirato dall'evento dell'Intober, dal mio disordino organizzativo, ho pensato di mettere in piedi un progetto per parlarvi di un argomento che desideravo trattare da un po' di tempo, la spiritualità, e più specificatamente la WIC. Tratterò ogni argomento di questa religione con un articolo di approfondimento sul blog, un'illustrazione dedicata e un video di approfondimento qui sul canale. Vi invito quindi ad iscrivervi per scoprire insieme a me, da neofita, quale sono questo mondo. Trovate l'elenco di tutti gli argomenti che saranno trattati nella rubrica in descrizione. A presto con il prossimo video di note spirituali!